La mia, io parlerò appunto dell'aspetto della depressione nella malattia di Parkinson e appunto anche andando a toccare quelli che sono l'argomento più importante ovvero la possibile terapia. Questi sono i miei disclosure. Beh innanzitutto inizierei con un aspetto di provocazione ovvero la malattia la depressione nella malattia di Parkinson è un sintomo della malattia stessa oppure un aspetto reattivo oppure è un'associazione casuale. Beh la risposta come direbbe quello è dentro di te però è sbagliata. Quindi vediamo invece che cosa potrebbe essere giusto. Allora innanzitutto sappiamo che i sintomi psichiatrici, neuropsicratici depressione inclusa sono estremamente frequenti nei pazienti con malattia di Parkinson. Nello studio Primo condotto in Italia sui sintomi non motori vedete che raggiungiamo quasi l'ottanta per cento di pazienti che hanno problemi di natura psichiatrica. Iva Gid diceva che la malattia di Parkinson è una malattia neuropsichiatrica e non è una malattia puramente motoria. E la depressione viene chiamata in causa per diversi aspetti e sicuramente è uno dei driver di quella che è la cattiva qualità della vita dei pazienti con malattia di Parkinson. I pazienti depressi hanno una progressione di malattia più rapida rispetto ai pazienti non depressi. Ha una è una appunto un determinante nella in quelle che sono le attività della vita quotidiana riduce la qualità della vita dei caregiver di questi pazienti. Partecipa all'aspetto del deterioramento cognitivo aumenta la mortalità dei nostri pazienti e quindi è una e questo per quanto riguarda l'aspetto puramente clinico. Ma abbiamo anche degli altri aspetti che per esempio sappiamo che la depressione può comparire addirittura trent'anni prima dei sintomi motori nei pazienti parkinsoniani e che i pazienti depressi hanno dalle due alle tre volte maggior rischio di ammalare di Parkinson rispetto ai soggetti non depressi. e sappiamo ormai per studi neuroimmagini che la depressione nella malattia di Parkinson è legata a una disfunzione catecolaminergica dopamina serotonina e noradrenalina in particolare. Però c'è un aspetto molto importante nei pazienti parkinsoniani che dobbiamo tenere in considerazione ovvero come diceva prima il professor Nicoletti i pazienti parkinsoniani nella terapia cronica sviluppano due aspetti importanti i movimenti involontari e le fluttuazioni nella capacità motoria fluttuazioni che si chiamano poi in diversi modi a seconda di come si manifestano. Ora l'audio lo può togliere per favore questo è un paziente appunto nella sua condizione di off vedete il tremore la rigida muscolare la difficoltà a muoversi quindi a girarsi e questo paziente appunto viene definito paziente in fluttuante in off vedete tra un attimo ecco in questo stesso soggetto dopo pochi minuti l'effetto del farmaco in questo caso la lisuride ma il levodopa eccetera tutti i farmaci che possono agire per riportare i pazienti nonne danno una condizione clinica totalmente diversa dal punto di vista motorio sapevamo fino a qualche anno fa poi abbiamo cominciato a capire che ci sono anche dei sintomi non motori che fluttuano così come fluttua l'aspetto motorio tra questi l'ansia gli attacchi di panico l'irritabilità il dolore la depressione la fatica e altri aspetti appunto non motori quindi c'è una correlazione molto stretta fra quelli che sono le fluttuazioni on off e le fluttuazioni di alcuni sintomi non motori qui vi faccio vedere un caso molto particolare perché questa signora è stata operata di di BS di di brain stimulation quindi diciamo che la sua componente motoria della malattia di Parkinson è compensata dalla dall'operazione chirurgica che ha avuto quindi dalla stimolazione del nucleo sul talamico però durante la visita vedete ha questo vero e proprio attacco di panico di disperazione comincia a piangere comincia a dire che lei non ce la fa più che la che la morte è ormai l'aspetta eccetera eccetera facciamo uno shot di apomorfina che è un potente dopaminagonista quindi la paziente va in on dopo dieci minuti e sparisce tutto l'aspetto eh depressivo ansia e e la e la crisi di panico ecco questo è un classico quello che noi chiamiamo non motor off cioè praticamente il paziente ha un periodo di off ma non è correlato alla sua attività motoria ma soltanto alla sua aspetto di natura psichica jay natt qualche anno fa un collega americano fece uno studio eh molto elegante e molto interessante infondendo la levodopa per via indovenosa aveva aveva anche misurato con una scala molto rapida l'umore e correlato al tapping il tapping sarebbe questo movimento che facciamo fare ai pazienti per vedere la loro motricità e vedete come c'è una stretta correlazione fra il miglioramento del tapping e il miglioramento dell'umore durante l'infusione di levodopa correla con la dose di levodopa infusa il paziente che per i pazienti che quando prendevano un milligrammo pro chilo per ora avevano un miglioramento superiore allo 0,5 milligrammi e la stessa cosa è stata dimostrata per l'ansia quindi l'ansia scendeva durante la la terapia infusionale per poi risalire alla fine della terapia infusionale per sapere la levodopa ha un'emivita molto breve per cui al momento in cui io spengo l'infusore dopo mezz'ora il paziente è di nuovo in off quindi c'è una correlazione stretta tra alcuni sintomi depressione ansia attacchi di panico eccetera e le fluttuazioni plasmatiche della levodopa per cui quando si va ad analizzare un paziente con malattia di Parkinson dobbiamo sempre tenere in considerazione innanzitutto se vediamo quel paziente nella sua fase di on o nella sua fase di off perché se voi lo vedete nella sua fase di off il paziente vi farà un quadro drammatico della sua vita se lo vedete in fase di on a volte addirittura ve lo fa anche troppo roseo perché spesso questi pazienti hanno anche delle fasi di eccitazione maniagrile comunque una buona idea è vedere se l'umore negativo cioè la depressione è presente anche quando il paziente ha una buona motricità in questo caso è bene sempre riguardare la terapia antiparkinsoniana ma a questo punto se c'è una depressione costante anche associata a una buona motricità è il caso di trattare con l'antidepressivo se il paziente invece ha una buona una cattiva motricità associata a un cattivo tono dell'umore in quel caso è meglio aggiustare la terapia antiparkinsoniana perché probabilmente quel periodo di depressivo è un periodo di off la cosa che deve sempre mettere in guardia è quando un paziente ti dice che ha una fase depressiva durante il giorno che dura due ore e due ore e mezza magari nel pomeriggio ed è l'ovvio che quella sia correlata al suo andamento o no i dopamino agonisti sono dei farmaci che aiutano sicuramente nelle fluttuazioni e quindi migliorano anche il l'umore sapete che ci sono diversi farmaci che migliorano le fluttuazioni motorie come i monoamino ossidasi binibitori i dopamino agonisti i comte inibitori che appunto migliorano anche la componente umorale la depressione ma questo è dovuto al fatto che questi farmaci migliorano le fluttuazioni in questi pazienti nei casi di per esempio di attacco di panico durante la giornata si possono usare delle cosiddette rescue therapy questa è l'apomorfina per via sottocutanea l'apomorfina per via sottocutanea e questa invece è l'apomorfina per via sublinguale che sarà approvata quest'anno dovrebbe andare in commercio in Italia anche adesso in commercio in Germania in Inghilterra questo è un piccolo film si mette sotto la lingua dopo 5-7 minuti il paziente ha un effetto clinico per cui va in on e quindi supera anche l'attacco di panico o la fase depressiva immediata perché queste fasi depressive tra l'altro brevi legate alle fluttuazioni sono molto intense sono molto gravi e quindi il paziente ne soffre moltissimo un altro aspetto importante che volevo toccare visto che ci sono molti psichiatri presenti è il paziente parkinsoniano è un paziente estremamente delicato perché ha un bassissimo livello di dopamina per cui è sensibilissimo a tutti i farmaci che agiscono sulla componente dopaminergica quindi i neurolettici neanche a parlarne ma un paziente parkinsoniano si blocca anche se prende il digestivo se prende il Jeffer che contiene la metoclopramide quindi bisogna fare molta attenzione e quindi anche farmaci tipo il valproato che possono dare parkinsonismo anche nell'anziano in alcuni casi nel paziente parkinsoniano generalmente ti crea grossi problemi questo è un paziente appunto che aveva sviluppato una distonia e una acantocormia da valproato che poi siamo riusciti a risolvere appunto correggendo la terapia tutti le benzamidi attenzione alle benzamidi anche se vengono meno utilizzate gli psichiatri ma ancora molto utilizzati dai gastroenterologi l'Evopride per esempio ora vi faccio vedere questo questo video la mia paziente in realtà è la signora il signore è il marito e a un certo punto gli ho chiesto ma che è successo al suo marito perché c'aveva quelle discinesie orobuccolinguali che sono veramente clamorose dice no perché non stava tanto bene era nanzioso eccetera e lo psichiatra gli ha dato il deniban dopo 20 giorni un mese di deniban il paziente ha sviluppato queste discinesie orobuccolinguali che sono veramente drammatiche e questa invece è una paziente trattata con carbolitium e valproato vedete come spesso si ripete questo aspetto sul tronco la cantocormia e le distonie assiali quelle sono abbastanza caratteristiche di questo tipo di questi questi farmaci quindi come la trattiamo la depressione nel paziente con malattia di Parkinson e studi ben strutturati ce ne sono pochi e vi faccio vedere quello che abbiamo questo ci sono due studi uno con la disipramina e citalopram e un altro nortriptilina e paroxetina tutte e due i farmaci hanno dimostrato superiorità verso placebo la disipramina superiore al citalopram così come la nortriptilina superiore alla paroxetina per quanto riguarda l'aspetto depressivo probabilmente perché questi farmaci hanno un'azione anche più noradrenergica e quindi più spingono di più sulla parte sulla componente anedonica l'unico farmaco scusate l'unico studio doppio cieco controllato nelle pazienti parkinsoniani depressi rimane questo qui del professor Barone che ha utilizzato invece il pramipexolo che è un dopaminagonista che dove ha dimostrato appunto che questo farmaco era in grado di migliorare la depressione nei pazienti con malattia di Parkinson ora da diverse osservazioni tra gli studi clinici anche in aperto eccetera ci sono alcuni farmaci che vengono raccomandati più rispetto ad altri per esempio la sertralina il dual action la duloxetina multimodali vortioxetina la miltazapina che viene utilizzata però soprattutto per il sonno e poi i farmaci dopaminagonista come il pramipexolo ropinirolo rodigotina la vortioxetina ve l'ha già presentata il professor Nicoletti molto bene per cui non spendo tempo a dirvi di nuovo di che cosa si tratta ci sono alcuni studi riportati in letteratura su pazienti parkinsoniani cioè questo studio che è stato pubblicato recentemente dal gruppo spagnolo che ha appunto condotto questo trial in aperto di 12 settimane su pazienti parkinsoniani depressi con miglioramento significativo dell'Hamilton a 12 settimane e con un miglioramento di tutti gli spettri della depressione da moderata a molto grave hanno anche dimostrato un miglioramento della qualità della vita nei pazienti appunto trattati con vortioxetina rispetto agli altri per quanto riguarda la safety ci sono stati 11 eventi avversi ma sostanzialmente un solo drop out durante lo studio e come si diceva prima soprattutto la nausea il vomito le vertigini erano gli effetti collaterali più frequenti in questo studio gli spagnoli comunque hanno utilizzato le compresse quindi sono partiti già con il 5 mg compresse questo è un risultato di un Delphi panel che abbiamo condotto in Italia ed è pubblicato ma io volevo mostrarvelo soprattutto per farvi vedere come c'è un consenso unanime 100% che sostanzialmente dice che i farmaci che vengono utilizzati nella terapia della malattia di Parkinson per il trattamento della depressione bisogna far molto caso a quello che è la tollerabilità e quelli che sono i potenziali effetti collaterali per cui abbiamo condotto questo studio seguendo le indicazioni dell'AIFA per quanto riguarda la tollerabilità quindi il primary endpoint di questo studio era la tollerabilità della vortioxetina in pazienti con malattia di Parkinson in fase avanzata e ovviamente depressi quindi il primary endpoint era la tollerabilità poi come secondary endpoint ovviamente siamo andati a vedere anche che cosa succedeva sull'umore la tollerabilità è stata valutata a seconda di un self report di effetti collaterali l'elettrocardiogramma e gli esami ematochimici questi sono appunto i criteri di inclusione esclusione abbiamo incluso pazienti ovviamente che avevano una depressione costante come avevo spiegato prima non un aspetto depressivo fluttuante legato alle fluttuazioni motorie abbiamo studiato 20 pazienti l'età è la classica di questi gruppi di pazienti anche se come sapete i pazienti parkinsoniani sono molti pazienti parkinsoniani sono più giovani ma nei trial clinici l'età media è sempre intorno ai 60 anni questi soffrivano di depressione quasi due anni e prendevano 700 mg di levodopa questo è il diario delle varie visite tutti i pazienti noi abbiamo utilizzato le gocce quindi i pazienti iniziavano con tre gocce la sera dopo cena aumentavano una goccia al giorno fino a raggiungere le 10 gocce nei pazienti sotto i 65 anni se necessario le gocce sono state portate a 20 quindi 20 mg al giorno per quanto riguarda i risultati non abbiamo visto effetti collaterali negli esami di laboratorio né nell'elettrocardiogramma ma la cosa più importante è l'UPDRS score quindi la valutazione dei sintomi dei pazienti parkinsoniani non è variata quindi la vortioxetina non influenza i sintomi parkinsoniani non dà un peggioramento dei sintomi della malattia di parkinson come per esempio può fare in alcuni casi la paroxetina o la sertralina che per esempio tendono ad aumentare il tremolo abbiamo avuto 5 pazienti con eventi avversi 3 di questi hanno lasciato lo studio nausea disnes confusione la confusione purtroppo è un problema quando si trattano i pazienti con malattia di parkinson un po' con tutti i farmaci e quindi bisogna farci attenzione abbiamo avuto solo un caso comunque legato alla confusione abbiamo avuto un paziente che ha riportato un calo della libido che è raro molto raro come dicevamo prima la cortoxetina mai successo però non ha interrotto lo studio e un paziente invece abbandonato per problemi di restrizione covid per quanto riguarda l'effetto sull'aspetto umorale c'è stato un miglioramento dell'Hamilton e della BDI vedete come l'UPDRS parte terza che è la parte più importante per l'aspetto motorio non cambia prima e dopo il trattamento la maggior parte dei pazienti ha riportato un miglioramento netto della sintomatologia ovviamente legata alla sintomatologia depressiva quindi in questo studio noi abbiamo dimostrato la tollerabilità di cortoxetina nei pazienti con malattia di Parkinson e quindi la cortoxetina può essere usata in maniera safe diciamo nei pazienti con malattia di Parkinson con depressione stabilita e quindi questo infatti veniva riportato anche dai colleghi che hanno risposto alla Delphi quindi in conclusione quando si trattano i pazienti col Parkinson bisogna fare attenzione a fare una corretta diagnosi quindi distinguere quella che è la depressione da fluttuazione alla depressione vera ci sono depressione e ansia può essere associata all'off può essere il primo sintomo del wearing off quindi va ottimizzata la terapia e poi si possono utilizzare gli antidepressivi se il paziente ha una depressione costante e come abbiamo visto la cortoxetina è sicuramente un farmaco che deve essere preso in considerazione grazie